Alicia Keys si chiama If I Got You. Posso farti solo qualche corretto? Non voglio darti fastidio, eh? Sarà facile che ti dia fastidio. Ti guardo solo perché devo capire, però... Non è un po' qua. Valentina Gerame, dirige l'orchestra Rita Bacchiglia. Sarà un capo di passiva. Valentina Gerame! No, scusate. Valentina ha fatto un'ora e mezza di strada. Come minimo Crema deve farle... Due ore. Come minimo Crema deve farle un applauso da... Che è andata sulla... Se lo scordano? Me la sapete? Pensa che io il paese prima pensavo fosse pistacchio. Pistacchio, Crema, Malaga. Zia, dopo ti porto la piccola domanda. Ma c'è un'ora che è che c'è giusto che tu devi mangiare qualcosa. Non è un'ora che c'è giusto. E' un'ora che c'è giusto. Che è un'ora che c'è giusto. Che è un'ora che c'è giusto. E' un'ora che c'è giusto che tu devi mangiare qualcosa. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti.